Benvenuti amici telespettatori ad un nuovo appuntamento con le notizie del mese di febbraio. Le bizze del tempo non finiscono mai. Fino ad un mese fa si era in piena crisi siccità e pensare che si proveniva da un'annata precedente all'insegna della piovosità con allagamenti e frane che hanno messo a dura prova soprattutto il sistema viario territoriale. Le temperature degli ultimi mesi, al di sopra della media, cominciavano a preoccupare e non di poco le popolazioni, in particolare quelle agricole, che vedevano compromesse le semine. Ed ecco invece, a distanza di 17 anni, venne giù tanta neve, si parla di 80 cm, come non la si vedeva da lontano 1995. Allora venne giù un metro di neve nella parte piana, ma fu ricordata soprattutto per i notevoli disagi collegati alla mancanza di energia elettrica protattasi per una settimana. Questa volta, fortunatamente, non si è vissuta la stessa esperienza, almeno nel centro abitato, come è possibile vedere in un nostro video girato tra la popolazione, ma l'emergenza c'è stata a causa del perdurare della calamità circa 15 giorni. Nella situazione difficile che si è venuta a creare, tante sono state le persone e i mezzi coinvolti, intervenuti per alleviare i disagi e far fronte alle esigenze. Corpi istituzionali come la forestale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale, l'esercito e poi in primis le amministrazioni comunali, i tanti volontari della protezione civile, Enel, Anas, il 118, servizio sanitario di pronto intervento. A queste persone, al di là delle polemiche che ovviamente non mancano mai, va la riconoscenza di tutta la popolazione per l'impegno profuso. Ovviamente tutto è stato affrontato con impegni, spesa a carico delle misere casse comunali e quello che più preoccupa sono gli interventi per il ripristino dei danni subiti dalla rete viaria e arredo urbano. Sentiamo il vice sindaco Mariano Laudisi. Siamo con il vice sindaco Mariano Laudisi. L'emergenza neve è terminata, però le problematiche sono un po' proseguite. Sì, le problematiche continuano, specie per quanto riguarda la viabilità e quando riguarda il problema idrico che è stato da giorni risolto. Praticamente le strade presentano un asfalto non idoneo alla circolazione, però stiamo già provvedendo con l'ufficio tecnico a una mappatura di tutta la problematica e stiamo cominciando a stimare i danni. Come amministrazione comunale comunque abbiamo scelto di lavorare continuamente a 24 ore con nove squadre che si sono divisi i quartieri e le criticità del paese. Abbiamo voluto arrivare anche in tutte le campagne per evitare disagi a chi abitava fuori dal paese. Ora siamo nella fase della rendicondazione perché il Dipartimento della Protezione Civile da Bari ci ha chiesto ogni giorno la situazione della criticità a neve. Noi qui al Comune con il COC Centro Operativo Comunale ogni giorno dalle ore 10 alle ore 11 mandavamo una relazione dettagliata su tutti gli strumenti messi in campo per affrontare l'emergenza neve e tutte le criticità che venivano rapportate a Bari e al Ministero a Roma. Abbiamo lavorato tanto, le squadre si sono impegnate tanto. Io devo ringraziare tutta la popolazione che pazientemente ha collaborato, una popolazione che si è rimboccata anche le maniche in molte occasioni e devo ringraziare ovviamente tutte le forze dell'ordine, i carabinieri con il loro aiuto e grazie anche al loro elicottero siamo riusciti ad arrivare nelle zone più lontane che non erano accessibili sicuramente con nessun tipo di mezzo. I vigili del fuoco che con autoscale hanno permesso che i tetti delle abitazioni non crollassero e grazie anche al loro gatto delle nevi siamo potuti arrivare in delle zone isolate. Un grazie anche al Corpo Forestale dello Stato che con i propri mezzi ci ha aiutato a ottemperare a quelle che erano le problematicità dovute alla neve e ovviamente un grazie anche alla protezione civile che incessantemente diciamo ci ha aiutato negli interventi sanitari. Infatti molti sono stati casi di dialisi, molti casi di interventi urgenti come infarti, cicli di chemioterapie e quindi diciamo la protezione civile è stata davvero preziosa nel suo aiuto. Diciamo ora i problemi come si sente anche in giro sono un problema di costi. Io ci tengo a ribadire che quella dell'amministrazione comunale è stata una scelta forte. Sapevamo che viviamo un momento difficile dal punto di vista economico ma con questa scelta abbiamo voluto essere molto vicini alla popolazione sia di Deliceto proprio residente nel paese ma anche coloro che risiedono nel lago di Deliceto e questo è stato veramente un segno forte. Sappiamo che andiamo incontro a delle spese esose. La nostra spesa si aggira intorno ai 120-130 mila euro stiamo ultimando un attimino le stime. Ma al di là di un confronto sinottico con altri paesi a noi è veramente interessato la vicinanza ai cittadini e credo che in campo abbiamo messo tutte le forze possibili e necessarie. Ovviamente qualche critica, qualche polemica sempre ci sarà perché è difficile veramente arrivare ad accontentare un po' tutta la cittadinanza e tutte le problematiche della cittadinanza soprattutto. Però io credo che tutto il meglio è stato messo in campo un ringraziamento particolare all'assessore Biccarino che ha coordinato tutte le operazioni e aveva preventivamente studiato questo piano neve. Giustamente nessuno si aspettava una nevicata abbondante di queste dimensioni. Ma diciamo che sia per la gestione del sale che ribadisco non è mai mancata, un po' in giro si sentivano alcune voci, da Margherita di Savoia invece ci consigliamo di acquistare scorte non di grandi quantità perché purtroppo tutta l'Italia la richiedeva e quindi c'era stata una razionalizzazione anche nell'acquisto del sale. Ma grazie a Dio non è mai mancato e tutte le zone principali come la Casalema dei Carabinieri o le zone più critiche del paese sono state sempre garantite dal servizio. Le ditte stesse ci denunciavano un po' questa caduta abbondante di nevicate perché quando passavano con i mezzi dopo dieci minuti ci dicevano che purtroppo qui si è ricoperto di nuovo. Noi siamo stati al loro fianco, li abbiamo rincuorati, loro ci hanno rincuorato perché hanno fatto davvero un lavoro esemplare anche mettendo molte volte a repentaglio la propria sicurezza. Abbiamo avuto occasioni in cui in alcuni quartieri era difficile davvero arrivare e un grazie di cuore davvero alla loro caparbietà e alla loro voglia di lavorare. Io dimenticavo un ringraziamento particolare e un plauso, un esempio da seguire sono stati quei ragazzi di cui ovviamente non conosco ad uno i nomi ma veramente un grazie di cuore da parte dell'amministrazione comunale perché hanno dato una mano a spalare la neve specialmente nel centro storico e questo gli fa veramente onore tanto di cappello a questi ragazzi che hanno dato un grandissimo esempio da seguire per tutta la popolazione. Sicuramente, i giovani sono stati presenti nonostante si dica il contrario. Bene, noi non possiamo che augurarvi buon lavoro, che le cose si sistemano il prima possibile. Sì, sicuramente. Adesso bisognerà pazientare un attimino per fare la stima un po' dei danni e poi speriamo di ripristinare subito per quanto concerne la viabilità. Le ditte interessate ci hanno detto che appena le temperature non scenderanno al di sotto dei 14 gradi si provvederà all'abitumazione delle zone più interessate dal problema neve. Perfetto, grazie. Grazie a voi per la disponibilità. Nella specialità juniores della carabina, il giovanissimo atleta di Deliceto, già premio Deliceto 2011, tesserato per la sezione di candela del tiro a segno nazionale, alla sua prima finale di un europeo ha sfoderato una prestazione eccellente, mancando l'oro all'ultimo colpo per soli tre decimi di punto. Al primo posto si è classificato un tedesco. Il baby tiratore aveva già dato saggio delle sue capacità a settembre dell'anno scorso quando aveva conseguito due medaglie d'oro a Milano ai campionali italiani giovanili. La redazione di Deliceto TG Web, a nome di tutta la comunità delicetana, esprime viva soddisfazione e auguri per altri importanti traguardi. Lo spazio è Dio. Questo è il tema della conferenza organizzata a Roma giovedì 23 febbraio presso il Teatro Argentina a cura della Diocesi di Roma, Ufficio Pastorale Universitaria, Ministero dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca. Sono intervenuti il professor Antonio Zichichi, Roberto Vittori, astronauta. Introduzione e saluti a cura del professor Jean-Jacques Dordain e del nostro concittadino, professor Antonio Viviani. Appuntamento con tradizione e folklore, sabato 25 febbraio. Posticipata per motivi logistici, la 33esima edizione del Falò di San Mattia. Non capita spesso di organizzare un evento con tanti ingredienti e non solo culinari. Ed è quello che ha caratterizzato questa edizione dei Falò in onore del compatrono di Deliceto, San Mattia Apostolo. Al calore e all'effetto scenografico che l'accensione produce, con vicoli e interi rioni rischiarati dai bagliori del fuoco, con i sapori della gastronomia tipica locale che inebriano il paese e il palato dei tantissimi curiosi e appassionati, giunti da ogni parte della provincia e non solo, come i tanti camper provenienti da diverse località dello stivale. La manifestazione per la cronaca è stata pubblicizzata dalla rivista In Camper. Approfittando anche della giornata prefestiva, ha visto la partecipazione della principessa Amelia Izzo d'Aragona, inviata come madrina dell'evento e la presenza di un gruppo di 50 persone, con in testa il sindaco, amministratori e associazioni di Rignano Garganico, i quali hanno ricambiato la visita alla comunità dell'Icetana per via di un gemellaggio in atto tra i presepi viventi delle due località. I falò in gara sono stati cinque, molti altri hanno partecipato fuori concorso. Anche la giuria, composta da rappresentanti ospiti, hanno avuto il loro grande affare per decretare i vincitori di questa edizione. Ogni falò è stato allestito a tema, come quello nero-azzurro del rione Borgo Gavitelle, nel quale si chiedeva l'intercessione di San Mattia per sollevare psicologicamente la tifoseria. Oppure il falò povero del rione Fontana, lo spazzaneve del rione Molo e tutta l'organizzazione teatrale messa su dal rione San Rocco con il gruppo Ora Folk. Si sono classificati al primo posto il rione San Rocco, secondo posto rione Fontana e terzo rione Borgo Gavitelle. Un sentito e doveroso ringraziamento, la proloco dell'Iceto, lo invia all'amministrazione comunale, alla protezione civile, vigili del fuoco, vigili urbani, carabinieri e a tutti quei commercianti che offrendo alcuni prodotti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Al parroco Don Leonard Camanzi per la disponibilità mostrata nella benedizione dei vari falò. Un grazie di cuore va agli organizzatori che con la loro disponibilità contribuiscono a mantenere viva una delle tradizioni più antiche di Deliceto. Deliceto si conferma paese di longevità. Infatti, dopo i festeggiamenti del mese scorso della signora Maria Antonia Ingegno, che ha festeggiato 102 anni, ha tagliato il traguardo dei cento anni, il 24 febbraio scorso, la signora Maria Donata Chinni, detta Donatella, vedo a Nicastro. Vediamo il servizio. Siamo con la signora Maria Donata Chinni, meglio conosciuta con il nome di Donatella, classe 1912. Signora, che attività svolgevano i suoi genitori? Come? I suoi genitori che attività, che lavoro facevano? Mio padre è morto in guerra, mi è rimasto di due anni a me, c'è quasi cento anni che è morto mio padre. Mia madre è rimasta con cinque figli. E certo che... E ha sostenuto lei la famiglia. Eh. E lei che classe ha frequentato? Io? La classe che ha frequentato? A scuola? La quinta, la quinta elementare, sì. E a quanti anni si è sposata? A 22 anni, mi sembra, 22 anni. Quanti figli? Quanti figli? Tre figli, tutte e tre femmine. Ha sempre svolto questa attività? No. Abbiamo sempre i negozi di tessuti, sempre dietro al bancone, a Napoli, sempre a fare spese, in giro. Quella è stata l'attività, sempre a fare il negoziante. E com'era prima il commercio, rispetto a oggi? L'attività è cambiata? Per la mia, se a seconda, che posso dire? Sono tutte cambiate, ma sì, i clienti, per esempio, tanti clienti, adesso la vendite di meno, adesso, ma io non ci sto più, questa mia figlia. I clienti, prima, era gente facoltosa o gente del popolo? Eh, insomma, certo, c'è la persona che capisce, si mette alla ragione, c'è la persona che ha a seconda. E cosa si vendeva di più? Eh, la biancheria. La biancheria, noi abbiamo sempre roba speciale, sempre, siamo stati i primi per la... Per il tipo di merce che avevate. Eh, sì. Il segreto di questa vita così lunga, come... cosa augurate ai giovani per arrivare a fare così tanti anni? Beh, l'amica, questo non vi posso dire niente. Ho sempre lavorato, sempre la casa mia e mio marito, poi i figli. Non siamo andati mai in giro, per esempio, come vanno le persone a ballare. Noi, siamo stati sempre... il giorno al negozio, la sera si chiudeva, ci stavamo in casa, si mangiava, la televisione passa. Nell'ambito delle manifestazioni culturali della sezione di Deliceto, dell'Uni3, Università delle Tre Età, si è svolta mercoledì 29 febbraio 2012, nella chiesa di Sant'Anne e morti di Deliceto, la presentazione del libro Bella come il paradiso, grande come il mare, di padre Gerardo Saldutto. Dopo i saluti della direttrice dei corsi, Beatrice Inneo e della professoressa Rina Di Giorgio Cavaliere, presidente dell'Uni3, Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti, la professoressa Nives Mascellari ha presentato il volume del Cappuccino Delicetano. La manifestazione è stata moderata da Michele Campanaro, presidente dell'Uni3 di Deliceto. Bella come il paradiso, grande come il mare, è il racconto della costruzione della chiesa di San Pio da Pietralcina, a San Giovanni Rotondo. Un diario di bordo con le sue luci, le foschie e gli ostacoli, ma tanta voglia di fare per realizzare una basilica museo, dalla cappella dell'Eucaristia e il suo tabernacolo, all'organo nella chiesa superiore, agli aquilotti in pietra, alla croce in bronzo e l'altare, gli archi in pietra, alle porte di bronzo, all'ambone di pietra e alla grande croce in pietra. Al giorno d'oggi, con una crisi economica mondiale, con una disoccupazione galoppante, parlare di beneficenze o benefattori è davvero fuori dal comune. Con la mente si corre indietro nel tempo e si pensa a generosi concittadini che hanno lasciato traccia indelebile con i loro gesti. Alessandro Mazza, Giuseppe Bonuomo, Giacomo Casati, giusto per citarne alcuni. Eppure, ancora oggi, è possibile trovare gente di animo gentile, che mette a disposizione della collettività il proprio operato, il proprio impegno, le proprie risorse per fini nobili. La benefattrice del 2012 si chiama Filomena Sannella, nata e vissuta a Deliceto, ma per motivi di lavoro trasferita si affoggia. Ebbene, la signora Filomena ha inteso sostenere come atto di donazione gratuita il costo per l'acquisto di un'ambulanza da destinare alle necessità della comunità delicetana, da trasferire direttamente al comune o ad associazione da questa indicata, con un impegno di spesa massimo di 40.000 euro o anche oltre. La signora Sannella Filomena ha posto quale condizione che l'automezzo rimanga nel territorio del comune di Deliceto, a disposizione della comunità delicetana, in ogni caso e comunque anche in caso in cui l'associazione, eventualmente designata, dovesse cessare la propria attività o essere incorporata o assorbita da associazioni poste al di fuori del territorio comunale. L'amministrazione comunale non svolge direttamente attività sanitaria, ritiene pertanto opportuno designare un'associazione maggiormente meritevole della destinazione di che trattasi. Esaminate le associazioni presenti sul proprio territorio, l'amministrazione comunale ha ritenuto di designare, quale destinataria dell'intervento, l'associazione Vigili del Fuoco Volontariato e Protezione Civile di Deliceto, sia in quanto da tempo sta cercando di acquisire un'ambulanza, sia in quanto, nelle proprie finalità, svolge un'attività di intervento di protezione civile di supporto soprattutto all'attività della comunità delicetana, avendo peraltro la dotazione umana ed economica per il mantenimento dell'automezzo. Questa redazione, a nome proprio delle associazioni di tutta la comunità locale, ringrazia la signora Filomena Sannella per la sensibilità mostrata in favore della gente del nostro territorio, con un atto di generosità immenso che consentirà di dotare un'associazione meritevole e di conseguenza la nostra comunità di un mezzo idoneo all'avanguardia di supporto e di soccorso nei casi di intervento sociale, sanitario e sociosanitario. Posticipata domenica 26, approfittando delle buone condizioni meteo che ne avevano impedito lo svolgimento, previsto per sabato 16, una sfilata in maschera organizzata dal gruppo Scaria per le principali vie del paese. Si è svolta mercoledì 29 febbraio, dopo vari rinvii a causa delle abbondanti nevicate che hanno coinvolto tutta la provincia, la premiazione della quarta edizione del concorso presepistico Natale in Casa Daunia, che ha visto coinvolti molti comuni dei Monti Dauni. L'evento, organizzato dall'Assessorato alla Cultura dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, si è svolto nel Salone di Palazzo Dogana. De Liceto è stato rappresentato dalla Proloco con un'opera realizzata dall'artista locale Michele Di Sapia ed esposta nel Museo della Chiesa di Sant'Anna e Morti per tutto il periodo natalizio. A De Liceto è stato assegnato il secondo premio. Complimenti a Michele Di Sapia e a tutta la Proloco. Per questo mese è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.